questa piccola opera in bronzo alta solo 39 centimetri condensa in sé alcuni capitoli drammatici della storia siciliana ma come vedremo costituisce anche una assoluta rarità e l'unica opera in bronzo del grande stuccatore palermitano giacomo serpotta ma andiamo con ordine nel 1674 la città di messina si ribella all'oppressivo governo spagnolo quattro anni dopo la rivolta viene repressa nel sangue e l'anno successivo il vicere francesco benavides in rappresentanza del giovane sovrano carlo secondo di borbone dichiara messina morta civilmente da ordine di radere al suolo il palazzo del senato in piazza duomo e sulla nuda terra fa spargere il sale infine fa fondere il campanile del duomo per ricavarne del bronzo l'intento è quello di far realizzare un monumento che effigiasse il sovrano carlo secondo vincitore su un idra simbolo della città ribelle da collocare al posto del palazzo distrutto la statua fu realizzata nel 1681 dal 25enne giacomo serpotta e fusa tre anni dopo nella reggia fonderia di palermo dal fonditore gaspare romano nel 1684 veniva collocata nella piazza duomo di messina ma il popolo messinese per ovvie ragioni non l'ha mai amata e per questo motivo durante le rivolte antiborboniche del 1848 la statua simbolo di un potere dispotico viene abbattuta e irrimediabilmente distrutta a testimoniarne l'esistenza solo poche stampe d'epoca e questo prezioso bozzetto bronzeo che apparteneva alle collezioni palermitane dei principi di palagonia da questi lo acquistò michele siri pepoli zio del conte agostino al quale si deve il trasferimento al museo agli inizi del novecento l'opera ha essenzialmente una funzione celebrativa vuole esaltare il re con il suo casato e la sua azione esemplare contro i ribelli carlo secondo il re noto per la sua salute malferma qui a solo vent'anni indossa una corazza da guerriero e una vistosa collana simbolo della prestigiosa carica di gran maestro dell'ordine del toson d'oro il suo sguardo fiero e deciso è concentrato nell'azione mentre il suo cavallo rampante ritto sulle zampe posteriori sembra ribadire l'incisiva efficacia della repressione operata è stato ipotizzato che il giovane serpotta nel concepire l'opera abbia tratto spunto da illustri modelli della scultura e della pittura barocca come la statua equestre di filippo terzo di spagna del carrarese tacca madrid o come il monumento a costantino il grande del bernini o infine la fresco di pietro novelli che raffigura il vicere moncada in una delle sale del palazzo reale di palermo ma al di là dell'impianto compositivo è certo che il futuro re dello stucco qui ha dato prova di straordinarie doti naturalistiche nel far vibrare la luce sulla superficie damascata della gualdrappa o sulla ricca criniera ma soprattutto nell'espressione dolorosa del cavallo che con le narici dilatate la muscolatura in tensione lo sguardo aggrottato e sofferto sembra quasi implorare la compassione dell'osservatore e in questo prezioso bozzetto c'è dunque in nuce tutta la straordinaria abilità del maestro che ha reso l'arte dello stucco davvero ineguagliabile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti